Accendiamole, accendiamole, benvenetele, accendiamole e non fatele volare, accendiamole e non fatele volare, perché non vedo le Sky Lancer? Succede sempre qualcosa a Milano, una specie di domenica sera, in qualsiasi momento dell'anno, sia sponsorizzato o meno dal comune, la gente ha voglia di socializzare, ha voglia di fare qualsiasi cosa. Per stare insieme. Ci sono delle persone che stanno accendendo delle lanterne chiamate Skylander. Con l'intento di farle volare ad un certo punto di un'esibizione musical ginnica. Gente di tutti i tipi, anche signore con figli e passeggini, ragazze di tutte le etnie. E' un effetto stupendo. Si stagliano nel cielo queste mini mongolfiere di carta velina. Un effetto scenico bellissimo. Che ci fa pensare che in fondo ci si diverte con poco. basta avere un po' di fantasia, un po' di voglia di stare insieme. Se continuo così mi sentirò Roberto Formigoni da un po'. Tendo a evitare questo esercizio melenze del comunitarismo di stampo cattolico. Eccole qui, mentre c'è un fallout di pioggia mista a nebbia, una tipica pioggerella milanese che cade anche sull'obiettivo della videocamera. restituendomi un effetto incredibile, unico. Quasi come se gli eventi naturali interferissero e mettessero la propria mano artistica su queste riprese. Quasi come se gli eventi naturali interferono. Ecco, ci sono anche i bambini costume e soprattutto le bambine. riprese difficoltose ma... belle nella loro presa diretta. Che belle! Eh, guarda! L'effetto straordinario nel cielo delle lanterne piccole mugartie di Cattaviglia. Skylando! Tra un po' viene Lucas e ci gira un'altra guerra esterilare. è bellissimo l'effetto nel cielo. C'è un sacco di gente con dei megafoni che da ordini che nessuno rispetta. non ho idea. E' tutta una sorpresa. Vedi il bascato di lui indignato? Io non capisco perché non mi va io. Inciambio, c'è un po' vencato suplice